Il senso! 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 Garantire al tempo stesso il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, due elementi che possono e devono procedere di pari passo. È l'invito che lancia all'istituzione l'Arcivescovo di Salerno Luigi Moretti sul caso delle fonderie pisani, mentre si attende un piano industriale per la ripresa della produzione in attesa della delocalizzazione. Si trova un confronto tra due diritti, credo proprio per questo che spetta alle istituzioni trovare soluzioni che rispettino proprio i diritti di ciascuno. Sia il diritto del lavoro, perché ci sono 120 famiglie che aspettano per poter mangiare, però c'è anche il diritto alla salute. C'è chi deve verificare se ci sono le condizioni, se non ci sono bisogna trovare soluzioni. Ecco perché le istituzioni. Io quando sono stato anche a trovare gli operai, mi raccomandavo solo che serve far presto, perché queste cose se si rimbalzano da una parte all'altra, poi il problema è che quando si trova una soluzione ormai il discorso è finito.